sono diventato cacciatore il momento in cui sono riuscito a concepire e poi ad accettare il susseguirsi e il compenetrarsi della vita con la morte una verità cruda da digerire ma probabilmente l'unica vera certezza che ci è concessa di sapere tanto semplice quanto triste preda e predatore il principio secondo il quale affinché uno viva qualcun altro debba necessariamente morire due facce di una stessa medaglia ma entrambe capaci di trasformare il cacciatore da chi toglie la vita a chi ne diventa parte del suo naturale svolgimento un ciclo perpetuo perfettamente scandito dall'insistenza del giorno e della notte dall'alternarsi delle stagioni e dall'agire violento dei suoi elementi uno spettacolo in cui ogni avvenimento sembra avere il suo preciso tempo per manifestarsi un tributo alla meraviglia come qualcosa da preservare conservare e tramandare e la salda consapevolezza di non poter mai prendere più di ciò che si è in grado di dare di ciò che si è in grado di ciò che si è in grado di ciò che si è in grado di la attrema Grazie a tutti.